Un ciclo amatore di 79 anni versa in gravi condizioni al torrette di Ancona per un grave incidente stradale lungo la provincia all'80 che porta alla Flaminia nella frazione di Carrara. L'uomo in sella la sua mountain bike stava percorrendo la strada in salita in direzione Monte, quando all'altezza del distributore di metano è stato travolto violentemente da una Ford Focus nera proveniente da Monte diretta verso Valle nella Flaminia alla guida del mezzo un altro 79enne del posto. Nell'urto il ciclista ha sfondato il parabrezza dell'auto e date le sue condizioni i soccorritori del 118 intervenuti sul posto ne hanno disposto il trasporto d'urgenza al torrette di Ancona. Al momento non si conoscono le precise condizioni dell'uomo che risulta però essere cosciente ma con una probabile frattura alla mandibola che gli crea difficoltà nell'esprimersi. L'uomo di origini padovane al momento dell'investimento era in tenuta ciclistica e privo di documenti e pertanto le sue generalità e luogo di residenza sono tuttora in fase di accertamento da parte della sezione infortunistica della polizia locale di Fano che si è recata sul luogo dell'incidente e che in queste ore sta procedendo con le dovute verifiche e gli accertamenti di legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'urto le cui case sono ancora in fase di valutazione.